Ciao, benvenuti su Cartisia! Oggi vi propongo una ricetta facilissima, ma credetemi, è buonissima, facile, veloce e buonissima. Vi propongo la pizza di pan carré, una pizza davvero velocissima da preparare, se si hanno magari ospite a cena, li volete stupire con qualcosa di diverso. Quindi iniziamo subito, trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Prendete una ciotola, versate 680 grammi di passata di pomodoro, che corrisponde comunque a 720 ml, quindi io utilizzo una confezione. Verso la mia passata di pomodoro, un cucchiaino di sale, amalgamate bene il tutto, origano. Anche questa volta amalgamate bene il tutto, ne metto un altro po'. Assaggiate la passata di pomodoro, se vi piace la lasciate così, io aggiungo due cucchiaini di zucchero bianco. La passata di pomodoro, comunque la potete personalizzare, come vi piace diciamo di più. Perfetta, così è buonissima. Adesso vi servirà una teglia. Possiamo mettere le nostre fette di pan carré. Io utilizzo pan carré integrale, voi potete utilizzare anche quello di grano duro, oppure pan carré cereali. Bene, io ho già attaccato il mio forno a 180 gradi, perché abbiamo bisogno di un forno preriscaldato. Quindi potete già accendere il forno. Vado a distribuire la mia passata di pomodoro su tutti i pan carré. Allora, io adesso utilizzo formaggio a pasta filata, diciamo il classico garbanino, voi potete utilizzare il formaggio che vi piace di più. Quindi distribuite il garbanino su ogni fetta, ricoprite il tutto con altre fette di pan carré. Quindi vado a ricoprire il tutto. Nuovamente passata di pomodoro, quindi ricopriamo tutta la superficie. A questo punto inforno la mia pizza a 180 gradi per 15 minuti. Dopo 15 minuti, uscite la vostra pizza dal forno e ricoprite la pizza di mozzarella. Bene, a questo punto infornate nuovamente la vostra pizza, sempre a 180 gradi per altri 5 minuti. Et voilà! Dopo 5 minuti la nostra pizza di pan carré è pronta! Facile, veloce, buonissima! Ovviamente controllate la cottura, perché la cottura può variare da forno a forno. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose nel rivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartesia. Se provate questa ricetta facilissima mi raccomando lasciatemi un commento e se vi piace lasciatemi un like. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartesia!